Giornata partecipata, quella che domenica 5 dicembre si è svolta in quel di Uzzegna. A fianco a fianco la sezione locale del Corpo Volontari dell'AIB Piemonte e la storica Società Operaria di Mutuo Soccorso si sono ritrovate per onorare Santa Barbara. Nella mattinata si sono dati appuntamento presso la sede dell'Antincendio Boschiglio Zegna, i partecipanti e l'autorità. Successivamente tutti in chiesa per la Santa Messa, mentre l'uscita, dopo la funzione, la classica foto di rito. Il tutto con in sottofondo le note di filarmonica locale su Carenzo. Presente anche i vigili del fuoco di Rivarolo, l'uscita poi proseguita con un rinfresco presso la società e quindi con il pranzo che si è tenuto invece nel parazzetto dello sport di Uzzegna. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS